Sono iniziate martedì sera le operazioni di trasporto e montaggio delle attrezzature che permetteranno l'installazione della ruota panoramica alta 35 metri. La trazione verrà posizionata nei giardinetti retrostanti la palla di pomodoro a Pesaro. Le componenti della ruota panoramica e la base su cui è installata sono state trasportate con mezzi che necessitavano di ampi spazi di manovra e che provenendo dalla strada statale 16 hanno transitato nelle vie che conducono a piazzale della libertà grazie ai divieti di sosta applicati dalla sera di martedì fino alla mattinata odierna. I costi sono a carico della famiglia Parisi, una ditta che ha sede a Bergamo ed è proprietaria della struttura, inoltre si è occupata del trasporto e provvederà anche al montaggio della ruota. Pesaro in passato ha ospitato altre attrazioni simili come la torre panoramica alta 75 metri e sempre in piazzale della libertà nell'estate 2020 era stato collocato Dinner in the Sky, il ristorante a 50 metri d'altezza. Nel 2019 la città pesarese aveva ospitato una ruota che misurava 24 metri, questa volta invece la trazione è alta ben 35 metri e resterà a Pesaro fino al prossimo 31 ottobre.